15 denunce per gli scontri dello scorso 28 ottobre in piazza delle Erbe a Verona quando al termine di una manifestazione pacifica contro le restrizioni appena emanate dal governo che aveva portato in piazza migliaia di persone, un gruppo di facinolosi aveva tentato di sfondare il cordone di sicurezza per raggiungere piazza dei signori, lanciando contro la polizia bombe carta e fumogini. Furono lanciate sedie, tavoli, bottiglie di vetro, petardi, sassi, scontri nei quali rimasero feriti sei agenti, due dei quali in maniera seria. La Digos Scaligera la sera stessa aveva già portato in questura 12 giovani, due dei quali furono denunciati a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e gli altri foto segnalati. Ulteriori indagini e perquisizioni scattate all'alba hanno portato al risultato odierno. I denunciati, tutti i residenti a Verona, hanno tra i 15 e i 43 anni, tra loro ci sono sei minorenni, due dei quali nel frattempo hanno compiuto 18 anni e anche quattro noti militanti di estrema destra, alcuni dei quali con precedenti penali per reati contro la persona e reati da stadio. C'è anche un noto sostenitore dell'Ellas Velona, classe 62, con precedenti per lesioni personali, traffico illecito di sostanze stupefacenti, oltraggio, resistenza e violenza pubblico ufficiale, oltre a divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgono le competizioni sportive e il titolare di un esercizio pubblico veronese. Le 15 persone denunciate dovranno rispondere a vario titolo di devastazione e saccheggio, resistenza, violenza pubblico ufficiale aggravata, lesioni personali aggravate, lancio e utilizzo nel corso di manifestazioni di attivizi pirotecnici e altri oggetti atti a offendere e manifestazione non preavvisata. A tutti gli indagati sono state anche elevate sanzioni amministrative per 6.000 euro.